Sfide storiche e politiche della memoria dei paesi mediterranei dell'Unione Europea e il tema del convegno organizzato dalla Cattedra Jean Monnet Historical Challenges and Politics of Memory of European Integration dell'Università di Bari. La tre giorni, nell'ex Palazzo delle Poste, affronta il tema delle odierne politiche mediterranee, le politiche della memoria e l'insegnamento della storia nell'Unione. A confronto i responsabili delle varie istituzioni europee, studiosi di relazioni internazionali, giuristi storici di molti paesi europei e insegnanti attorno alle prospettive dell'Unione e alla elaborazione del passato, con particolare attenzione ai paesi dell'Unione Europea che si affacciano al Mediterraneo. Nel momento in cui si propone di innalzare muri nell'Europa mediterranea, il convegno intende offrire qualche chiave di lettura sul presente e sul rapporto col passato. È un network tra istituti di ricerca, archivi, musei che si occupano di memoria e di politica della memoria per confrontare i dibattiti nazionali dei vari paesi del Mediterraneo, metterli insieme, metterli a confronto, creare strumenti di dialogo tra noi e anche strumenti critici da condividere nell'affrontare questo tema dedicatissimo del rapporto fra storia e memoria, a ritornare alla storia, a rilanciare il ruolo fondamentale sul piano concettuale e metodologico della storia per ricondurre queste memorie un po' irrequiete a una capacità autocritica di lettura e di contestualizzazione della propria origine e della propria collocazione nel presente. Cioè la nostra idea è di creare strumenti di consapevolezza del cambiamento oggi in corso.